L'obiettivo è stato preso, pazzo! Quello lì! L'obiettivo è stato preso, pazzo! Ho preso l'aereo, ho preso l'aereo! Procedere con cautela! Uomo a terra, uomo a terra! Hanno preso il caposquadra! Eeeh! 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 C'è chi lo nemico! Attenzione! Abbiamo preso l'obiettivo! Passo! Abbiamo perso l'obiettivo! Passo! Abbiamo preso l'obiettivo! Abbiamo preso l'obiettivo! Chi lo metto con la testa su? No, no, è la granata! Vai! Vai! Questo è rimasto qua! Molto è volato! Non lo sprozza! Casi sulle rocce e muore! Ma dov'è? Cascittimo! Comunque! Ma che è? Penso troppo! Penso troppo! Gecko! Vai a dare le ruote! Gecko! Vai a dare le ruote! Accelera! Cascchino! Oh! Cascostante! Oh! Vado! Ma perché le chie fanno 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 deiников? Super, ma lancia io una! Il mio è santo! Guarda... Ma è bellissima! Accelera! Accelera! Come è che? Ho accelerato! Strido! Sto lanciando! Troppo lontano! Sto lanciando! Pagami! Sto facendo poco! Sto facendo poco! 3 VARTA! Sto facendo poco! Sto facendo poco! Sto facendo poco! Ma è vivo ancora! E anche mio figlio se è vivo! Aspetta, rimedio! Ma che sono ancora solo? Sto facendo poco! Sto facendo poco! Sto facendo poco! Sto facendo poco! Pagami! Un静 Victim. TRUX! Grazie a tutti.